ciao a tutti friends al vostro supercorris eccoci qua ragazzi questo è un video per ripercorrere un po in maniera chiaramente riassuntiva la carriera di adrian newy un manager inglese straordinario ingegnere progettista incredibile che ha avuto successi in ogni team dove ha lavorato parte proprio gli inizi ha portato tutti i team di un certo livello a vincere il mondiale questo ci dà grande speranza che l'arrivo di newy possa significare per ferrari vincere tanti mondiali questa è la speranza enorme che abbiamo tutti noi ferraristi se non accadesse sarebbe davvero una grande sorpresa ma anche una grande delusione quindi ripercorriamo la sua carriera dall'inizio e andiamo a vedere tutte le vittorie che ha ottenuto nei suoi team in maniera alle volte aspettata in maniera alle volte inaspettata comunque lui è riuscito a portare in alto qualsiasi team dove è stato e questa è una grande speranza per noi ferraristi come al solito invito a iscrivervi a tutti i miei canali se volete lasciate un bel like seguitemi sui miei social c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza supercorris and friends potete aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza trovate il link di più vale in descrizione c'è l'aiuto il sostegno al mio canale se volete sostenere il mio lavoro la mia crescita il miglioramento potete fare una donazione abbonarvi al mio canale partiamo con la storia di adrian newy a inizio anni 80 newy entrò nel team marsh uno dei team che faceva parte del motorsport di quegli anni anche abbastanza famoso lui innanzitutto collaborò al progetto formula 2 poi addirittura disegnò fu capo progettista di una vettura per l'imsa che vinse campionati e gare a profusione nell'84 newy fa esordire la sua vettura in formula indy vincendo addirittura la 500 miglia di indianapolis nell'85 86 le vetture disegnate da newy vincono il campionato americano portando la reputazione dell'ingegnere inglese a livelli mostruosi poi newy entra in un team chiamato force che militava in formula 1 per cercare di sollevarne le prestazioni ma la cosa non va a buon fine quel team nell'86 si ritira dalla formula 1 e newy ritrova subito il suo vecchio ingaggio presso la marsh alla fine degli anni 80 adrian newy visse in seno al team la trasformazione che porta la marsh a diventare quella che poi sarebbe chiamata sarebbe stata chiamata layton house motorizzata jad non ci furono grandi risultati né per newy né per il team nonostante la vettura a livello aerodinamico fosse davvero all'avanguardia si ricorda l'incredibile vittoria sfiorata nel 1990 in francia da ivan capelli che guidò la gara per tantissimi giri salvo poi essere preso proprio nell'ultimissime fasi di gara da allen prost con la ferrari che addò a vincere quel gran premio questo dimostrò come newy comunque aveva progettato un'auto eccezionale ma che aveva delle carenze in altri ambiti proprio in quell'estate 1990 adrian newy venne licenziato dalla layton house cosa assurda subito venne ingaggiato dalla williams renault che aveva a capo frank williams fondatore del team e patrick ed patrick ed ingaggiò newy e iniziò subito il lavoro sulla vettura 91 che si rivela una vettura eccezionale solo un inizio di mondiale difficile per un problema di affidabilità della williams 91 non permise a manza il di vincere già quel mondiale in estate la williams dominava le gare assolutamente e alla fine si accontentò di un secondo posto nel 91 ma con ampi margini di miglioramento per il 92 che fu una stagione devastante il 1992 è stato l'anno di dominio più fragoroso che si era mai visto all'epoca in formula 1 mansel vinse nove gare se giudico il titolo mondiale in netto anticipo rispetto alla fine della stagione e la williams demolì tutti quanti grazie alla macchina progettata da adrian newy e alle sospensioni attive successo che si ripete nel 93 anche lì prost dominò il mondiale con un senna che fece di tutto per rimanere in lotta ma non riuscì effettivamente e la williams fece un mondiale straordinario dominando anche in quella stagione poi nel 1994 vennero bandite le sospensioni attive e la williams ebbe un calo prestazionale prese senna senna non si trovava molto bene l'abitacolo era un po troppo piccolo per le sue dimensioni la macchina era molto nervosa ci volle tutta la stagione per mettere appunto quella macchina 1994 che poi permise a demonille di lottare per il mondiale e perderlo per un solo punto ai danni di michael schumacher una macchina che stagione in corso diventò sempre più forte e importante a livello prestazionale purtroppo senna scomparve a imola anche per un difetto di progettazione di cui fu accusato lo stesso adrian newy per la rottura del piantone dello sterzo ricordiamo ma comunque furono anni dove la williams era una macchina di un livello spropositato anche in quel 94 poi si rivelò effettivamente la miglior macchina in pista ci furono dopo la morte di senna sempre più conflitti all'interno del team williams lo stesso newy venne accusato dell'omicidio insieme a patrick head lui voleva ricoprire un ruolo di gestione più ampio e alla williams questo ruolo era appannaggio di patrick head nel 95 la macchina non si rivelò eccezionale come gli anni precedenti dominò la benetton di schumacher e adrian newy già aveva deciso di cambiare squadra nonostante tutto ci fu un 96 ancora straordinario con vetture progettate da newy la williams dominò tutte e due mondiali arrivò prima e seconda nel mondiale piloti con il e villeneuve nel 97 newy approdò alla mclaren lasciando comunque in dota la williams una macchina che vinse il mondiale piloti e costruttori anche quell'anno la prima mclaren disegnata da adrian newy fu quella del 98 che si rivelò una macchina pazzesca straordinaria dominò entrambi mondiali con schumacher che cercò di lottare fino alla fine ma poi non riuscì effettivamente a battere akkinen nel 99 la macchina ebbe problemi di affidabilità ma si rivelò comunque eccezionale vinse il mondiale piloti con akkinen e perse quello costruttori per poco nel 2000 si ripete la stessa storia la macchina era eccezionale problemi di affidabilità non permisero di vincere entrambi i mondiali che furono appannaggio della ferrari ma newy in quel momento era riconosciuto a tutti i livelli come il manager migliore beh già nel 2001 newy fu tentato fu tentato il suo ingaggio da parte della ford e della jawar che correvano appunto in formula 1 in quegli anni questo non accadde perché ron dennis in mclaren alla fine convinse newy a rimanere col team inglese ma di base le prestazioni della mclaren scesero anno per anno nonostante tutto con una vecchia macchina del 2002 nel 2003 rischiò di vincere il mondiale la mclaren l'ho perse per nulla nei confronti di schumacher la figuraccia peggiore che fece newy in quegli anni fu proprio la vettura 2003 una mclaren 2003 estrema paurosa esteticamente da vedere ma che non scese mai in pista perché purtroppo aveva troppi problemi di affidabilità quella fu un po la figuraccia peggiore che fece newy nella sua carriera anche nel 2004 la macchina che fu discendente di quella 2003 che non scese mai in pista si rivelò una macchina molto fragile vinse una sola gara con raikkonen e effettivamente si inclinò parecchio il rapporto tra newy e la mclaren in quegli anni che portò poi l'inglese a lasciare il team a fine 2004 infatti nel inizio 2005 sembrava che newy fosse proprio destinato a lasciare seduta stante la mclaren e invece ron dennis riuscì a rinnovare il contratto fino alla fine della stagione 2005 una stagione che portò mclaren a essere la miglior macchina in pista se non fosse che l'affidabilità impedì a kimmy raikkonen di vincere quel mondiale la mclaren quando andava era nettamente superiore a renault ferrari williams a tutto il resto dello schieramento peccato che si rompeva sempre fine 2005 definitivamente newy decide di lasciare la mclaren nel 2006 newy diventa ufficialmente direttore tecnico della red bull inizia questa avventura fantastica lui si mette subito al lavoro per la macchina 2007 e pian piano la red bull ogni anno fa una macchina migliore inizia a crescere inizia a cercare piloti più forti nel 2008 ottiene diversi podi addirittura la toro rosso vince una gara a monza e newy dimostra che ci sa fare si prepara un 2009 dove col cambio regolamentare la red bull vuole essere protagonista nel 2009 newy appunto presenta una vettura innovativa c'è però il dominio brown gp a inizio mondiale che presenta un fondo diverso un estrattore posteriore rivoluzionario e vince le prime gare ma newy si mette subito al lavoro e in man che non si dica porta una soluzione molto simile lui aveva scelto anche i motori renault a sua detta più compatti per la sua vettura e in più la red bull era l'unico team dei top a aver rinunciato al montare il cares che era quella potenza quel motorino aggiuntivo che dava potenza sui rettilini per pochi secondi tutto ciò permise alla red bull di avere molto meno peso sull'auto azionare meglio le zavorre e essere competitiva a fine mondiale vettel e weber vinsero diverse gare e la red bull arrivò seconda sia nel mondiale piloti sia nel mondiale costruttori dimostrandosi in netta ascesa nel 2010 arriva il primo mondiale piloti e il primo mondiale costruttori per la red bull la red bull è la miglior macchina in pista ha alcune problematiche legate all'affidabilità che poi si risolvono vince il mondiale costruttori con una gara d'anticipo e con vettel vince il mondiale piloti all'ultima gara battendo alonso e weber che era il suo compagno di squadra oltre alla mclaren torna la vittoria del mondiale una macchina disegnata da newy e inizia il dominio red bull beh ragazzi sono anni di dominio il 2011 un dominio fragoroso di red bull che non ha rivali domina con una marea di pole position e di vittorie facendo record su record 2012 stravince il mondiale costruttori quello piloti lo vince per soli tre punti con un alonso incredibile che riesce a trascinare la lotta fino all'ultima gara perdendo per soli tre punti 2013 a metà stagione la red bull mette il turbo anche aiutata comunque da favori evidenti della fia e stravince quel mondiale quattro mondiali piloti e quattro mondiali costruttori consecutivi incoronano adrian newy come fenomeno della progettazione di auto vincenti in formula 1 purtroppo nel 2014 con la nascita del motore ibrido la red bull non dispone più di un motore all'altezza per combattere con mercedes il motore renault di quelli che ci sono è probabilmente il peggiore e infatti la macchina spesso e volentieri non riesce a essere competitiva nonostante tutto nel 2014 con ricciardo all'interno del team si cerca di rimanere aggrappati al mondiale ricciardo vince tre gale rimane comunque aggrappato alla lotta fino agli ultimi appuntamenti poi chiaramente red bull la fa anche una rifondazione a livello di piloti punta sui giovani arriva successivamente anche verstappen però si deve accontentare sempre di vittorie di tappa e mai di una lotta vera per il mondiale passano tanti anni dove red bull litiga con la renault e lo stesso newy più volte dice se avessimo un motore all'altezza potremmo vincere effettivamente la bontà telaistica aerodinamica della red bull è riconosciuta da tutti il problema è che il motore è troppo penalizzante ecco perché newy non riesce mai a vincere in quegli anni nonostante macchine potenzialmente all'altezza nel 2020 chiaramente con l'arrivo anche della onda in seno alla red bull inizia una collaborazione molto proficua che poi porta pian piano red bull a crescere mano a mano mano a mano a portarsi nel 2021 a poter lottare di nuovo per il mondiale beh ragazzi nel 2021 ultimo anno del vecchio regolamento la red bull è la macchina migliore supportata da un ottimo motore onda è la macchina migliore in pista capiamoci vince il mondiale piloti solo il fatto che mercedes poi a un certo punto della stagione lancia quel motore farlocco nelle ultime gare che andava 40 all'ora più degli altri mercedes riesce a tenere aperta la lotta per il mondiale piloti e vince il costruttore altrimenti la red bull dopo le gare di messico austin era nettamente avanti ma poteva vincere anche il mondiale costruttori ripeto fu la fu la permissività di fia di far portare a mercedes un motore palesemente illegale a cambiare quei risultati di fine stagione la red bull si rivelò la macchina migliore per tutto l'anno una macchina eccezionale in tutte le condizioni e newy tornò ad essere il genio che tutti conoscevamo nel 2022 col nuovo regolamento all'inizio la ferrari sembra anche meglio della red bull poi chiaramente red bull è più brava a sviluppare prende il largo a metà stagione stravince anche quei mondiali 2023 è l'anno del dominio più clamoroso che si sia mai visto in formula 1 la red bull vince tutte le gare tranne una vince oltre 20 gran premi è dominante un vantaggio talmente ampio in pista che spesso e volentieri si autolimita per non aizzare le voci problematiche all'interno della griglia di una superiorità imbarazzante nei confronti degli altri e stravince gli ultimi due mondiali anche quest'anno la macchina comunque disegnata da newy che già a maggio poi annuncia l'addio alla red bull continua a essere la migliore in pista la più completa la più forte quindi newy lascia la red bull con una eredità tecnica mostruosa per me sarà sufficiente a vincere anche nel 2025 e arriva in ferrari con un carico di speranze che si possano ripercorrere i successi che lui ha avuto in tutti i team dalla williams alla mclaren alla red bull questa è la storia di adrian newy ragazzi spero vi sia piaciuta ci vediamo nei prossimi video del vostro super course ciao guaglio ciao ciao